Sin dall'inizio della pandemia abbiamo detto che bisognava intervenire per mettere in sicurezza le fasce più a rischio. Ovvero gli anziani. Nelle marche le nostre parole sono diventate fatti. Nessuna scorciatoia i furbetti del vaccino. Priorità agli anziani che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale. Complimenti alla giunta guidata da Francesco Acquaroli e da Fratelli d'Italia e a tutti gli operatori sanitari per il risultato raggiunto, lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando la notizia del completamento delle vaccinazioni degli over 80 nella regione Marche. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!